Dopo Livorno, la Toscana è pronta ad accogliere una nuova nave di migranti. La Ocean Viking dovrebbe arrivare domenica pomeriggio, mare permettendo, al porto di Marina di Carrara. Il presidente della regione toscana, Eugenio Gianni, ha detto di averlo saputo ieri con la telefonata del prefetto e di aver subito mobilitato la struttura della protezione civile perché possa creare le condizioni di accoglienza con la struttura del polo fieristico che ha già operato durante il periodo delle vaccinazioni anti-Covid. Notizie che abbiamo ci dicono che sulla nave Ocean Viking stanno viaggiando 95 persone di cui 15 donne e 38 minori di cui 33 non accompagnati, così la sindaca di Carrara, Simona Righi. Rappresentanti delle autorità sanitarie del governo sono in contatto con l'equipaggio della nave e stanno già prendendo informazioni sullo stato di salute dei passeggeri. In un primo momento l'arrivo della nave, continua a Righi, era stato previsto per il primo pomeriggio di domenica ma viste le attuali condizioni del mare è probabile che questo possa slittare anche di diverse ore.